Un Milan sontuoso, meraviglioso, straripante, domina, stradomina, umilia. Il Napoli fantasmagorico, il Napoli imbattibile, il Napoli che festeggiava già all'uscita dell'urna e che stasera pensava di fare un sol boccone del più bel Milan della gestione Pioli. Un Milan immenso, straripante, dominante, un Milan meraviglioso, dedicato a voi. Adesso lo dedico a voi e lo dico a chi di voi. Pollicione prima se anche voi siete orgogliosi di questo Milan. Iscrivetevi al canale perché sarà un aprile e un maggio, tutto da vivere. E campanella per le notifiche. La dedichiamo a voi questa vittoria, a voi della stampa, a voi giornalai, a voi che non sapete far altro che sminuire questo Milan, non sapete fare altro che buttarlo giù appena potete schiacciare, lo schiacciate. Appena potete abbatterlo, lo abbattete. Noi siamo solo un po' arrabbiati, vi diciamo. Sapete cosa siamo? Un po' arrabbiati. Perché in due partite contro la squadra che diventerà campione d'Italia, meritatamente perché è stata più continua di noi, due partite su due li abbiamo dominati. Letteralmente dominati. Sia all'andata che al ritorno. Solo che all'andata siamo stati un po' sfortunati, un po' imprecisi. Al ritorno siamo stati impietosi. Fin dal primo minuto, fin dal primo momento in cui l'arbitro ha dato inizio al gioco, siamo stati straripanti, meravigliosi. Con il nostro gioco, con il nostro DNA, con il nostro 4-3-3 finalmente. Con dei giocatori meravigliosi che hanno dato tutto. Che hanno giocato con precisione tecnica, con intensità, con carattere, con grinta, con determinazione. Ed è dedicato a voi. A voi che non è. Avete già abbassato i prezzi di tutti voi giocatori del Milan, vero? Gazzetta dello Sport. Le House era dimezzato. Tomori si era dimezzato. Calulu si era dimezzato. Tutti si erano dimezzati. In realtà le vostre vendite si sono dimezzate. Le vostre vendite si sono dimezzate. Noi l'unica cosa che possiamo rimproverare a questi ragazzi è di avere smarrito per qualche tempo in questo campionato la consapevolezza della loro forza. E che però per giocare così, per giocare in questo modo, per giocare in questo modo straripante, dominante, meraviglioso, bisogna esserci con la testa. Ragazzi, lo dico spesso nei miei video. La testa è la cosa più importante di un calciatore, di una squadra a maggior ragione, perché sono tante teste messe insieme. Quindi rispetto per i nostri ragazzi che continueranno a crescere e da questo momento ricominceranno il loro cammino, che è stato brevemente interrotto in questo campionato, da alcuni risultati così incredibili. Perché vedere questo Milan di stasera giocare con questa autorevolezza fa venire un po' di rabbia pensare alle partite che abbiamo perso, pareggiato, buttando via punti, rischiando di buttare via la nostra identità, che è quella di stasera, questo 4-3-3. Lasciate che però, perché penso che sia anche giusto, no? Darmene atto, l'unico, l'unico che in questa settimana, l'unico, non ce ne sono stati altri, l'unico che in questa settimana vi ha detto, per tutta la settimana, potete andare a rivedere i video quando analizzavo la partita, che il Milan avrebbe giocato, non con Krunic, vertice alto del trio di centrocampo, ma con Benasser vertice alto del trio di centrocampo, l'unico, ma non perché bisogna sempre usare la testa. Nella vita in generale, nello sport, io parlo di tante cose, ma mi fregio di aver giocato a calcio e di capirne un pochettino. E quando vi dicevo che la posizione di Benasser su Lobotka sarebbe stata decisiva, perché Benasser ha lo stesso passo di Lobotka, ha la stessa fisicità, ha lo stesso dinamismo e sarebbe stato determinante, e io pensavo che il mister avrebbe fatto questa mossa, datemi atto, iscrivetevi al canale, perché questa cosa non l'ha detta nessuno, nessuno, no, sono stato l'unico a sostenerla tutta la settimana, Krunic, Tonali e Benasser là davanti, l'unico sono stato, l'unico, e quindi un applauso a mister Pioli, non per avermi ascoltato, perché lui ha voglia, ma perché era la mossa giusta da fare, è stata fatta, quindi mi prendo il merito, scusate, stasera sono esaltato, mi prendo il merito, perché l'ho detto, l'ho ridetto, l'ho ridetto, l'ho ridetto forse anche stamattina, nel video di stamattina, quindi ragazzi, una partita meravigliosa, do subito i voti, perché domani voglio parlare di poesia, domani faccio il poeta, quando parlo del Milano, oggi vi do i voti, con Magic Mike Mignon, praticamente inoperoso, ma quando è stato chiamato in causa, perfetto come al solito, 7, Calabria, tanto di cappello, era l'unica mia perplessità, di questa partita, del mio unico dubbio, ma è stato preciso, ha sempre temporeggiato, ha dato poco spazio, a Kvara, lo ha innervosito, quindi un bel 7,5 a Calabria, 8 a Kiar, perfetto stasera, semplicemente perfetto, 8 a Tomori, perfetto, semplicemente perfetto, 7,5 a Teo, mi è mancata solo la sgroppata, col suo gol, quindi è 7,5 solo perché, mi è mancato quello per tutta la partita, ma comunque, fase difensiva perfetta, è sempre più positivo, è il solito Teo, che sapete, è il mio preferito, insieme a Mignone, Krunic, 7,5, potevo dargli anche 8, questa sera a Krunic, anzi, sapete cosa c'è, gli do 8 a Krunic, stasera, e do 8,5, scusate, 8,5 a Tonali, perché Tonali ha fatto una partita, ragazzi, con calma, domani, vi rivedete la partita che ha fatto Tonali, su Anguissa, e su tutto il centrocampo del Napoli messo insieme, 8,5, Ben Asser, 8, a Nulla Lobotka, c'è, preciso, c'è nelle azioni pericolose, distribuisce calcio, 8, Isma Ben Asser, sapevo che sarebbe stata la chiave determinante della partita, Diaz, 8, ha fatto un primo tempo incredibile, poi il secondo tempo è uscito per un, speriamo che non sia infortunato, speriamo che sia solo un affaticamento, primo tempo di Diaz, da 8, indiscutibilmente, Leao, Leao, 9, Leao, io non lo so, la testa di questo ragazzo, io non lo so, io mi auguro che questa sua testa trovi una, diciamo una continuità, perché se la sua testa trova una continuità, ragazzi stasera è stato letteralmente devastante, imprendibile, e il Leao che ci ha condotto a questo, però caro Rafa devi essere sempre questo, devi essere sempre questo, stasera non me ne frega un cazzo del contratto, devi essere sempre, da qua adesso, fino a fine stagione, questo, chirurgico, mentre stavi andando a segnare il secondo gol, te l'ho detto, vai, punta e tira in porta, non pensare ad altro, tu quando punti e vai, non devi pensare ad altro, non devi pensare a fare il tiretto a giro, non devi pensare a chi la devo dare, tu devi pensare solamente una cosa, uno contro uno, salto l'uomo e tiro in porta, forte, uno contro uno, non devi avere altri pensieri, l'unico tuo pensiero deve essere quello, e quando lo fai, quando la tua testa ti dice di fare questo, fai le meraviglie che hai fatto stasera, Giroux, Giroux, solo per come si impegna, stasera è 7 e mezzo, perché mi ha sbagliato il gol del 4-0, credo, non me lo aspettavo, non quello difficile che aveva fatto bene, l'ha messa sul secondo palo, quello facile, che non era in fuori gioco, e l'ha tirata in bocca, a merè, scusate, quindi, Giroux 7 e mezzo, solo per questo, i subentrati, ragazzi, i subentrati, do a tutti, un 7, sinceramente, sul 4-0, fatti i campi, no, Saramaker merita di più, Saramaker ha fatto, delle cose che, non se, ragazzi, anche questo è un altro che, il suo problema è solo questo, e sono dentro qua il suo problema, stasera era, 8 a Saramaker, perché il secondo tempo che ha fatto, non si può dare di meno di 8, ragazzi, gli altri, gli diamo tutti 7 per, per amore, per amore, mister Pioli, mister Pioli, stasera è 9, ha azzeccato tutto, ha messo in campo una squadra fantastica, ha messo in campo la squadra, i giocatori, nella loro posizione migliore, ha caricato la squadra, gli ha dato gli stimoli, gli ha dato l'input giusti, quindi stasera Pioli si merita un 9, oltretutto ha riproposto il nostro gioco, il nostro gioco è questo, il 5, 3, 2, 3, 5, 2, glielo lasciamo fare a quelli là, a quelli che adesso ci guardano il culo da dietro, a quelli là, glielo facciamo fare il 3, 5, 2, noi il nostro gioco è questo, ma questo, col 4, 3, 3, 3, 3, cazzo, mister mi fai arrabbiare che ci sei arrivato tardi, porca miseria, 4, 3, 3, questo è il nostro gioco, il nostro DNA, siamo il Milan, e stasera l'abbiamo fatto vedere a tutti, a voi, a voi, ridicoli, giornalucoli da strapazzo, che non sapete fare altro che dileggiare il nostro Milan, voi dileggiate, voi dileggiate quanto cazzo volete, voi dileggiate quanto volete, ma noi siamo il Milan, siamo questa roba qua, noi siamo questo, e dovete portare rispetto al Milan, grazie ragazzi, una serata meravigliosa, una serata da Milan, con la goduria proprio che ci esce da ogni poro, buonanotte a tutti, abbiamo fatto vedere che questo non è un caso, non è stato un caso, anzi forse è un caso che non sia arrivata la seconda stella, ragazzi forza Milan, siamo orgogliosi di voi ragazzi, pollicione, iscrizione se vi piace il canale, e campanella per le notifiche, a domani, ragazzi sarà una notte bellissima per tutti noi, ciao!